Una Madonna bellissima. Si tratta di una Madonna del 1100, zona Umbria, Alto Lazio. È molto rara. Opere provenienti dall'Italia e dal mondo a testimoniare la molteplicità di gusti, scuole, mode e percorsi creativi. L'edizione numero 61 di Cortona Antiquaria sarà aperta fino al 3 di settembre. Tante le curiosità e i pezzi rari in mostra. Quest'anno abbiamo un antiquario di Firenze che è un figlio d'arte perché la madre pure si occupava di antiquariato e soprattutto aveva un negozio di una bellissima e famosissima galleria di merletti, di pizzi, ma serviva le case reali. Ha portato veramente delle cose eccezionali, molto belle. Un bellissimo cassettone delle botteghe granducali fiorentine, probabilmente dell'ebanista Van der Wiener, che era un ebanista olandese che lavora per i granduchi di Toscana. Quindi credo sia l'oggetto più bello che ci sia oggi in mostra. Questo è un cassettone fiorentino, botteghe granducali, primo quarto del Settecento, in tarsiato, in ebano, pero ed altre essenze, in radica chiaramente. I bronzi sono ripresi da un suo cassettone gemello, diciamo, gemello, differente solamente nei montanti. Questi cassettoni si pensano fossero stati alla Villa La Quiete, a Montalto. E niente, la maniera, diciamo, è quella di Van der Wiener, che era un ebanista del, diciamo, appunto, granducale fiorentino. Qui oggi si vince se c'è qualità. Noi abbiamo avuto sempre una commissione di esperti. Hanno visionato tutti gli oggetti, tutte le mostre, segnalando quelle cose che non erano consone alla nostra mostra e che noi abbiamo provveduto o a cambiare le attribuzioni, o a cambiare l'epoca, o addirittura allevare. Quindi i visitatori e gli eventuali compratori possono comprare con una certa sicurezza, perché a prescindere dalle garanzie che può dare l'antiquario, sono tutte cose che sono state visionate. Grazie. Grazie.